Allora, best of the Yoshi Ma scusa, ma quale best of è uscito? Best of FIFA 23, primi due mesi carichi di tilt ed emozioni Mamma mia, io credo che questo video possa avere del potenziale Cioè, frate, mi fa capire una cosa, comunque, eh Best of the Yoshi Yoshi fa i best... quanti best of fa? Fa due best of, tipo uno verso Natale passato E uno a fine gioco Con FIFA 23 è uscito a novembre A metà novembre Signori, best of the Yoshi, da vedere per vedere quanto fa vomitare FIFA 23 Money! Lui senza musica, lui non mette musica La cosa che mi fa ridere, sai qual è? Esatto E la cosa che mi fa più ridere è sempre questa Lui ha un potere dove nel momento in cui gli succede qualcosa di strano nel gioco Ce pia sempre gol Quindi figurate già FIFA ti... FIFA ti porta... Lui, a me mi impazzirà FIFA già ti porta allo sfinimento Tuzzi, mettici pure che ti fanno ste cose Ti succedono ste cose E poi ricevi pure gol dopo Ci ho preso gol Ci ho preso gol Ci ho preso gol Ci ho preso gol Per quell'arrivazione E poi ritorna normale Guarda come sorride E va sempre ridere Oddio Olanda ARAUCO ARAUCO PORTI VOGLIO VEDERE PROPRIO SU TUTTI I GIORNALI DOMANI PARA Che sta a fare la grande tecnica del calcio Cosa? Cosa sta succedendo? No, regà, ma è allucinante Cosa? Ha battuto da lì, veramente Ma mo' ci fa pure gol Ah no, ok È bello il sab di Yashina Mamma mia, ma Cristiano Ronaldo Ma stoppa I palloni così Stoppa Poi quello contro ha fatto Quel passaggio senza senso Ha fatto Grande Ah Nunez Da sta palla Ah Nunez Da sta palla Adutec Sei un coglione Adutec Sei proprio un coglione Oddio In che senso Io so Io giochiamoci mezzo tempo E tutti Ce l'ha Le regala sempre tu De lo feo Gli fa un po' de schillette Oddio Sei perchi copta De lo feo Poi scegliamo Fammo Vedi Mamma che gioco di merda Porco Dio Ma chi ha questo ritro No, niente Ehi Balletta a mezzo Dei salato esterno Golle Godo Madonna Ah Goal Oddio Quando fa vedere i replay Fa sempre Lui trova sempre Delle cose L'ha proprio stoppata Poi Che poi dice Vabbè rinvia La proprio Guarda che cazzo ha fatto Bugha il braccio De Donna Ruma No Zimbo Ah raga ma ha calciato Il palo Ah i soccer Ha calciato il palo I soccer Ma non capisco Cosa Ma che sto a vedere Ma non ha avuto reazioni Quindi gli deve essere già successo Ah 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 Il cazzo Non è ancora c'è Ah 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 Dai mi fa gol Mi fa gol Ah no Gli esce direttamente col portiere Grandemente un fenomeno Ma come è tornato Guarda come ride Mamma mia I capelli peggioranno Di clip in clip E poi c'è via Gol Darnautovich Non surterà in qualche modo No che fa Ma non vedi quadrato Ma che sto a vedere Ma che Ah 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 con mi male grazie vedi la fanno segni che è la mazza no 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 cristo santo è veramente una che impression di vomito ole meta ginola quanto costerà non voglio manco sapere no 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 ole ole se siamo presi la trivella di malazia la trivella di malazia se siamo presi la trivella di malazia ole con malazia ci ho vinto un draft bello no sei chiaro giocatore grazie della tua so io su full gaze anime grazie per il prime ginola nart porco dio mio ne mezzo 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 mio o non è abbram ho comprato o ne mezzo cioè non è smizzato o è mio kim pempe kim pempe olè olè guarda che palla di tembele poi lo devi esplodere pezzo di merda fai schifo tu madre da rotta un culo una puttana voglio sbagliare altro che ho nei mali cosa è una cosa ma che cazzo è triplo palo interno se posso credo gli è ritornata un'altra volta oh ma dov'ha il portiere dove va ma che sei imbecilla che cazzo fai cioè io faccio una cosa del genere mi crescia 8 volte la stream smette di funzionare il mio computer per un mese all'incirca ma poi regà io continuo a ripete il fatto che lui con un cazzotto tranquillo butti giù una sedia c'è ste sedie si da buttato cioè non ci vanno giù di facili eh si porta veramente all'esasperazione sta gioca allucinante ha 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 lui è corso io've orto e io sono riuscito a spaccare quella dei tt2 facendo la stessa cosa solo a me me sei lotta guarda che sta morendo ho capito sarà tt piccato un culo ma si triangolo son imprendibile a se se son 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 neone aria punizione battari gioca no questo potente kim pembe guardalo no vabbè riga mamma mia c'è sì c'è lo stesso trattamento dei soccers lo dovrebbe prendere fifa 23 tocca avvenza difesa sarà molto mondiale stupi di percina si vabbè cazza a un buono quella 150 ho preso porco dio lucio del culo però mi ha fatto ridere che gli ha respawnato ma come si sta a tenere 100k ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego ma te ne affanculo brutta merda eh sì portogallo atti ma porco dio l'unica l'unica persona al mondo che ma che è ma che è ah con lo stracco mogli con tarzan in mezzo all'arberi starà che cosa voleva intendere qui esaurito 93 quello che si pulirà il culo che foglie dell'arberi a meno che vado a mettere basta con sto san maxi pin porco che ce ne devo fare con sto maxi pin su playstation 5 infanni i passaggi manco con manco con 99 ci vado a mettere sto sgorbio che c'ha 77 corto 64 de lungo 70 divisione porco gioca a benda 88 88 sgorbio 93 ammazza questo che pezzetto che gli è andato a fa è qua o via eh qua lo busca o lì ooo quello si è abbracato eh t'ammazzo vieni qui tranquillo t'ammazzo vieni qui trip trap vieni 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 nooo no è vabbè lo schifo mi fai puu easy cannottiera 93 ottio 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 ciao va bello adesso c'è beat faina ehi perchè mi guardi storto alzo le braccia al cielo stile totto ah dal paolo ciao